Andrew Tate mi ha rovinato e probabilmente sta rovinando pure te in questo momento adesso sicuramente starai già andando sotto i commenti eh ma Tate, eh eh Tate, Tate, Tate Tate Andrew Tate, Andrew Tate vedi cosa stai facendo stai facendo la stessa cosa che Andrew Tate ha subito mi stai subito accusando, stai subito pensando a commentare in maniera cattiva contro di me a odiarmi perché vado contro Andrew Tate senza aver ascoltato tutto il video traendo fuori dal contesto quello che sto per dirti non sapendo qual è il contesto sono state prese delle clip di Andrew Tate e l'hanno cancellato dal web hanno cercato di distruggerlo è andato in prigione, questo e quell'altro e tu no ma sono clip fuori contesto e adesso stavi facendo la esatta stessa cosa con me Tate, Tate, Tate aspetta un attimo, guarda il video fino alla fine guarda tutto il video e poi puoi commentare ma ricorda, pensa con la tua testa perché questo è quello che fa un vero uomo non ti fa influenzare perché ti sto dicendo che Andrew Tate ti sta influenzando negativamente perché ti sta rovinando la vita bene, io sono uno dei suoi più grandi fan partiamo da questo presupposto quello che ha fatto lui a livello di business per me è assurdo per me lui è uno scacchista nella vita vera sta giocando letteralmente a scacchi in 4D cioè le strategie che crea è come se muovesse delle pedine è come se pensasse sei mosse avanti probabilmente andare in carcere è stata una sua strategia fa parte di una sua strategia voleva andare in carcere per quanto ho una buona idea di Tate questo solo per farti capire cosa penso di Tate come ha aperto i suoi casinò come ha avviato la sua prima attività se tu sai la sua storia è veramente assurdo quello che ha fatto le mosse che ha giocato le strategie e io non riuscirei al giorno d'oggi a pensare con la lucidità di Tate di Andrew Tate ma dopo l'eccitamento iniziale dopo aver conosciuto Tate e aver detto cazzo è un grande ho scoperto dei retroscena ho capito che non tutto quello che diceva era oro anzi il contrario molte cose sono cazzate dice che bisogna fumare il sigaro perché il sigaro alza il testosterone aumenta il testosterone è una cazzata è una cazzata totale non c'è nemmeno bisogno che io argomenti non c'è nemmeno bisogno che io ti mostri le ricerche scientifiche fumare fa male ti distrugge ti distrugge dall'interno anche se è un sigaro ora tutti questi uomini di valore uomini di valore tra virgolette copiando Tate fumano il sigaro ma non è fumare il sigaro che aumenta il testosterone ma non è fumare il sigaro che aumenta il testosterone o ti aiuta a diventare un uomo di valore assolutamente no Andrew Tate oltre a fumare il sigaro lavora tutto il giorno si allena tutti i giorni fa diecimila cose è un uomo di valore per altri motivi fumare il sigaro è semplicemente una cazzata che Andrew Tate fa ma non vuol dire che facendola diventi come Andrew Tate non ha nessun senso fumare non ha nessun senso fumare un vero uomo di valore non fuma poi ci sono tante altre cose che Andrew Tate fa sì che tutti vedano per bene e che tutti oggi io sono un uomo di valore io non sto con una donna io sto con dieci ragazze venti più ragazze scopi meglio è è una cazzata anche questa è una cazzata sai chi fa questo? le stesse donne che tu critichi perché sono delle puttane stai agendo al loro stesso modo no ma per gli uomini è diverso perché un uomo può tradire la sua donna ma di cosa stai parlando? ti fotte la salute mentale tradire la tua donna non stare con una singola donna ma andare alla ricerca del piacere a breve termine ti fotte la tua salute mentale si cresce tramite le difficoltà andare con 10.000 donne è una difficoltà no è la comodità avere un rapporto serio e duraturo avere un rapporto che perduri nel tempo quella è la difficoltà mantenere la relazione stabile anche durante le difficoltà anche durante i periodi negativi nella buona e nella cattiva sorte sposarsi quella è la difficoltà in quel modo cresci in quel modo diventi un uomo di valore diventando un padre avendo dei figli che poi anche lui è sposato ha dei figli ha una figlia se non sbaglio ovviamente lo dice perché deve essere deve andare un attimo deve creare il suo personaggio ma ti sta rovinando la vita ti sta rovinando la vita seguire quel consiglio devi immaginare che tu sei come un pezzo di scotch sai il pezzo di scotch appena lo togli lo attacchi da qualche parte è veramente duro sta solitamente lì potrebbe stare per 10-15 anni 20 poi lo togli lo metti su un'altra parete lo ritogli lo metti su un'altra parete lo ritogli lo metti su un'altra parete immaginati che ogni volta che lo togli e lo metti su un'altra parete questa azione la devi immaginare la devi paragonare all'andare con una donna diversa una donna stacchi due donne 3 4 5 arriverai alla decima donna ventesima trentesima quello che vuoi che non si attacca nemmeno più non sarai più capace di creare un rapporto serio e duraturo se prima potevi stare con la prima donna 20 anni 30 anni arrivato alla quarantesima non riesci a starci nemmeno 10 minuti vuoi passare subito alla prossima non riesci più a dare valore alla tua intimità andare con tantissime donne non è quello che ti rende un uomo di valore anzi ti distrugge dall'interno ti distrugge dall'interno quindi tutto quello che dice Andrew Tate non è oro non è oro devi ragionare con la tua testa anche lui lo dice devi uscire dal matrix nel matrix ti vogliono imprigionare ti vogliono tenere prigioniero di un pensiero che è quello là di lavorare trovarsi un buon lavoro studiare andare all'università eccetera eccetera tu stai uscendo da quel matrix e ne stai entrando in un altro dove pensi esattamente come Andrew Tate ma Andrew Tate è diventato Andrew Tate perché non ha pensato come nessun altro se non come se stesso perché ha ragionato con la sua con la sua testa quindi se vuoi seguire il suo esempio non devi ragionare come lui devi ragionare con la tua testa prendere i consigli positivi da lui prenderli da un altro personaggio da un altro da un altro unirli insieme e creare te stesso non devi essere un fan se no sarai per sempre un fan non sarai mai un leader non guadagnerai mai 5.000-10.000 euro al mese entrando nell'Hastler University a proposito se vuoi sapere come sono passato da 0 a 30.000 euro al mese e adesso sto scalando anche sopra quella cifra vai nel link in descrizione perché c'è una lezione gratuita dove ti spiego come ho fatto e ripeto è gratuita mi devi solo lasciare la tua email sarò onesto se mi lasci la tua email ti cercherò di vendere qualche prodotto ti invierò qualche email niente spam sono prodotti che ti interessano il mio programma formativo privato 4 email poi non ti invierò più niente sono 4 email automatiche sono super onesto con te come negli altri video dico solo la verità e parlando di verità parlando del mio programma formativo privato è il miglior programma che puoi mai trovare in Italia quello si è pagamento non costa un cazzo rispetto al suo valore e se tu mi riesci a provare che esista un corso un qualsiasi programma migliore della mappa dei soldi che è il mio programma formativo privato ti rimborso per intero ti rimborso per intero tutto il costo non riuscirai a trovare niente di meglio te lo posso garantire non è un programmino dove ti dico i tre metodi di guadagno la tecnica del pomodoro niente di tutto ciò è un sistema che ho creato nei mesi che ti porta da zero a qualsiasi risultato tu voglia perché costruisci le basi la salute mentale il mindset come creare un business e la gestione dei soldi non ti dico eh fai dropshipping vendi questo prodotto vai qui ecco come creare lo store su Shopify quelle sono cazzate quelle sono stronzate mi raccomando pensa con la tua testa spero che questo video ti sia piaciuto e ti sia stato utile iscriviti attiva la campanella per ricevere tutte le notifiche e non perderti il valore di questo canale e noi ci vediamo a un prossimo video a un prossimo video a un prossimo video a un prossimo video